Fondata sul lavoro, 75 anni di Costituzione, è stato questo lo slogan scelto per la festa dei lavoratori di CGL Cisle Will, svoltasi per la prima volta a potenza in piazza Mario Pagano. Diversi temi affrontati dai tre leader nazionali, uno su tutti quello della instabilità del lavoro, che vede l'Italia essere la nazione con il tasso di precarietà più alto a livello europeo. I tre segretari, accolti ieri dalla Melonia Palazzo Chigi, auspicano che il dialogo con il governo continui anche in futuro e che venga al più presto approvata una vera riforma fiscale che punti alla riduzione del cugno fiscale retributivo, a detassare gli aumenti contrattuali e ad assicurare a tutti un lavoro dignitoso, inclusivo e stabile. Il metodo non può essere quello di essere chiamati la domenica sera per provvedimenti già decisi, dove il confronto sindacale non esiste, essere chiamati dopo quattro mesi in cui di confronto non ce n'è. Un metodo di questa natura vuol dire non riconoscere al sindacato, ai lavoratori, ai pensionati che rappresenti, ai giovani, il ruolo che il sindacato deve avere per far crescere e per migliorare questo Paese. Noi intanto abbiamo apprezzato che il Premier Meloni abbia voluto riaffermare il valore del dialogo sociale e la disponibilità a riprendere il cammino del confronto sulle tante questioni aperte. Mai come oggi, in una fase di passaggio e di transizione digitale, ecologica, industriale ed energetica, il Sud deve dare un grande contributo. Sì, nell'incontro che abbiamo fatto ieri c'è stata una prima risposta positiva alle nostre richieste di intervenire sul cuneo fiscale. Noi dobbiamo recuperare l'inflazione, il potere d'acquisto e le scelte che ha fatto il Governo vanno in questo senso. Siamo un po' preoccupati perché i soldi che vengono messi sul piatto e che servono ad intervenire sul cuneo fiscale da luglio a dicembre non sono soldi strutturali, sono soldi che poi non ci saranno più.